dall'attivismo di Greta Thunberg. Tra loro ci sarà anche Federica che qualche giorno fa era insieme alla sedicenne svedese al Palazzo di Vetro per il primo summit ono dei giovani dedicato al clima. Le nostre manifestazioni ci hanno portato ad accedere al Palazzo di Vetro, alle Nazioni Unite, quindi già solo questo deve far capire, deve farci capire che le nostre azioni non sono vane e di conseguenza scendere in piazza è importante. Un appello accolto da tanti, c'è l'adesione di alcuni sindacati, ci sono università che oggi non faranno lezione, c'è il sostegno del ministro dell'istruzione Fioramonti che ha chiesto ai dirigenti scolastici di non considerare lo sciopero un'assenza. Il pianeta si riscalda, le foreste bruciano, i ghiacciai si sciolgono, dicono i ragazzi, è tempo di dar retta ai nostri appelli. Ascoltare la scienza, decarbonizzare l'economia e fare in modo che gli accordi di Parigi vengano rispettati. Qualcosa si muove? Qualcosa si muove ma non è abbastanza purtroppo. Ci sarà uno strumento in più per monitorare i movimenti.